Vabbè, è una partita per noi estremamente negativa, loro devo fare complimenti a Torino perché hanno fatto sicuramente una grande partita, sono partiti molto forti, molto aggressivi in difesa, soprattutto facendo tanto canestro in attacco e noi non siamo riusciti proprio a limitarli, specialmente ci hanno distrutto al rimbalzo e dovevamo fare sicuramente un lavoro nettamente migliore in gara 4 per provare a vincere la partita, nei play-off bisogna azzerare subito, sia che si vinca che si perda, quindi dobbiamo azzerare completamente e pensare solo e esclusivamente a gara 4, sappiamo cosa dobbiamo fare meglio e saremo pronti.